Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi andrò a mostrarvi un metodo che vi permetterà di liberare dello spazio dal vostro dispositivo coloro l'archivio del dispositivo stesso sarà quasi pieno. Questo è un metodo che funziona su tutti i dispositivi iOS, quindi su tutti gli iPhone, su tutti gli iPad e su tutti gli iPod Touch. Ho deciso di fare questo video perché io, essendo un possessore di iPhone SE da 16GB, ho spesso questo problema di avere l'archivio quasi pieno. Quindi ho cercato in internet vari metodi e il metodo che vi sto per mostrare è appunto il metodo che credo sia il più veloce e il metodo migliore per liberare spazio. Per prima cosa vi faccio vedere che effettivamente ho poco spazio sul mio dispositivo, infatti in impostazioni generali info ho come capacità 12GB e 12GB e invece di capacità disponibile soltanto 500MB. Ciò significa che ho quasi 11,5GB di file pieni di file miei, pieni di applicazioni di musica. Questo è quello che ci dice il nostro iPhone, perché in verità di quegli 11,5GB i GB effettivamente occupati dai miei file saranno molti molti di meno, perché in quei GB sono compresi anche dei file temporanei generati dall'iPhone durante l'avvio, magari anche file che ha generato per diversi processi che non ci servono più, fatti apposta per aumentare lo spazio. Per liberarli è veramente molto molto semplice ed è ciò che vi farò vedere in questo video. Tutto ciò che dobbiamo fare è andare in iTunes Store, dirigerci nell'applicazione Film e selezionare un film a caso da scaricare, non importa il titolo, basta che sia un film. In questo caso io scelgo alla ricerca di Dory e ci verrà chiesto se vogliamo o acquistare o scaricare il film. Nel momento in cui noi premeremo su uno di questi due bottoni non verrà effettuato alcun addebito sulla nostra carta di credito fin quando l'iPhone avrà verificato che ci sarà spazio effettivamente disponibile per il download del film stesso. E appunto il metodo per liberare spazio è proprio questo. Io adesso fingo di voler acquistare il film e in questo momento sta appunto l'iPhone verificando se c'è dello spazio disponibile per scaricare il film. Non trovandolo ci verrà fuori un messaggio d'errore come questo dove c'è scritto che non lo può scaricare appunto perché non c'è spazio. Però facendo questo è liberato dei file temporanei. Se andiamo in impostazioni generali info vediamo che abbiamo come capacità disponibile adesso un gigabyte e 38 rispetto ai 500 megabyte precedenti. Giuro non c'è trucco, non c'inganno, è veramente tutto qua. Molto semplice, io lo faccio spesso in quanto appunto non ho un dispositivo molto capiente e vi consiglio di farlo anche a voi. E appunto se questo metodo provatelo sui vostri dispositivi e se vi è utile e se vi è stato utile fatemelo sapere qua sotto con un commento lasciando un mi piace ma più importante condividete questo video con i vostri amici, con i vostri conoscenti che hanno appunto problemi di spazio per permettere anche loro di liberare spazio non utilizzato, utilizzate con questi file temporanei sul loro iPhone. Non mi resta che ringraziarvi per la visione io sono Alberto e vi aspetto sempre qui su iTechPro con un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!